Buongiorno, ogni tanto la stampa ci informa sulla situazione occupazionale del nostro paese, di solito le conclusioni sono, oddio che disastro, come faremo, i giovani non trovano lavoro, eccetera, ma ogni tanto però ci sono degli aggiornamenti che ci dovrebbero far pensare. Ieri su Repubblica hanno pubblicato un rilevamento statistico e se dobbiamo credere a questo rilevamento, e non vedo perché non ci dobbiamo credere dal momento che compriamo quel giornale e lo leggiamo, la situazione è anomala, come spesso capita, e cioè succede che tre quarti di offerte di lavoro provengono prese in considerazione, ma un quarto delle offerte di lavoro viene completamente disatteso, il che in un paese che ha problemi occupazionali è perlomeno strano. Allora uno si chiede perché ci sono delle zone che non vengono riempite, che non vengono prese in considerazione, forse sono dei lavori pesanti, dei lavori difficili, di lavoro a rischio, non è così, non è affatto così, non è che mancano i minatori, ma no, mancano dei lavoratori, specialmente nel campo dell'artigianato, assolutamente tranquilli da un punto di vista del rischio della vita. Per esempio la categoria più carente come presenza, come risposta alla offerta di lavoro, è quella degli installatori di infissi e serramenti. La cosa è al ghiacciato? Io capisco, non si trovano i minatori, non si trovano gli addetti ai gabinetti di ricerca scientifica, posso capirlo, ma gli aggiustatori di serratura, cioè uno è disposto a fare l'operatore ecologico in una discarica, ecco lì, e infatti non ci sono molte assenze, ma se si tratta di aggiustare una serratura, non c'è risposta a questa offerta. Ora, c'erano 1500 posti di questo tipo, ne sono rimasti vacanti l'89%. Ora, vedete che è molto strano il mercato del lavoro, è molto strano e soprattutto uno si deve chiedere ma perché? Cioè evidentemente manca l'informazione, manca l'organizzazione, manca la formazione professionale. Perché? Come si spiega che mancano, per esempio, da parte gli installatori di infissi, i panettieri, i gelatai, i tessitori, cioè artigiani, che operano in settori di tutta tranquillità. Non ci sono. Ora, qualcuno dovrà fare qualcosa invece di continuare a rompere le scatole e parlare di fannulloni o di bamboccioni o di... Insomma, voglio dire, i posti ci sono, fate in modo che i giovani che sono disperati perché non hanno lavoro possano frequentare dei corsi di preparazione. Se no è inutile, stiamo parlando a vanvera da anni e anni. Ora, la situazione appunto è questa. C'è un altro fattore che incide sul movimento del mercato del lavoro e cioè i giovani non si vogliono allontanare la casa. Ed è stranissimo come dovendo occupare un posto lontano dal luogo di residenza sono le persone più mature e più adulte che accettano piuttosto che i giovani. Non si riesce anche questo a giustificare del tutto. E questa è la situazione. Gli ultimi casi di cronaca ci hanno segnalato alcuni esempi di lavoratori molto particolari, molto italiani. Per esempio, il padre di Sara, Sara è la vittima del delitto di Avetrana, bene, lavora a Milano, dal suo paese a Avetrana, nella Puglia, si sposta a Milano per, attenzione, fare il muratore. Ora, un lavoratore costretto ad andare a lavorare a mille chilometri, a fare un mestiere che potrebbe fare a cento metri da casa, bene, la società che offre queste occasioni di lavoro deve interrogarsi e dire ma perché? Perché facciamo questo? È chiaro che c'è qualcosa che non funziona. Uno può accettare o meno di andare lontanissimo e torna a casa. Ho letto lì, appunto, parlando di questa persona che ha vissuto con grande degnità e con grande riservo un momento dolorosissimo in mezzo a dei pagliacci e a degli esibizionisti. lui è stato molto... Insomma, questa persona torna a casa due, tre volte all'anno per brevissimi periodi e soprattutto torna a casa nei momenti di disgrazia, cioè va ai funerali, diciamolo francamente, o poco più, farà un paio di vacanze a mille chilometri a fare il muratore. Dice, ma non lo può fare in Puglia? Nel pare di no, si deve fare in Lombardia, è pazzesco. Benissimo, questa è la situazione di un paese pieno di controsensi, pieno di cose che non riusciamo a capire e non riusciamo a spiegare. E' strana la gente. Abbiamo visto, appunto, in questi giorni, insieme a questo defilé di mentecatti che continuano ad andare nel posto dove è stata uccisa una ragazzina, a vedere, a curiosare, a toccare, a prendere dell'oggettistica per ricordo. Ricordo di che, insieme con questi deficienti, diciamolo francamente, irritanti personaggi, della gente molto tranquilla. Della gente, per esempio il sindaco di Avetrana. Accidenti, il sindaco di Avetrana ha fatto una cosa che difficilmente un amministratore pubblico la decide. Dunque, in un momento di panico, offensivo per il paese e per la sensibilità dei suoi abitanti, in cui si assiste all'arrivo di pullman, di curiosi, che vanno a vedere le villette del delitto, si fa per dire, o vanno al pozzo dove la povera Sara era stata sepolta. Ecco, il sindaco, che non ha altre occasioni, perché la gente ci va per questo lì, non credo che Avetrana abbia dei monumenti indimenticabili, per cui la gente fa la fila dall'autostrada lì. Quindi, è un'occasione, comunque un'occasione commerciale. Bene, il sindaco ha vietato l'ingresso ai pullman, alle macchine, a questo corteo di curiosi, di gentaglia. Siamo uno strano paese, un paese che sogna di andare al grande fratello e lo guarda. Non so chi sta peggio. Ci vediamo domani.